Il ferragosto non decolla. Secondo il presidente di Federalberghi, Bernabé Bocca, non si registrerebbe il tutto esaurito in zone classiche vacanziere. Sardegna, Versilia, siamo al 70% di occupazione. L'anno scorso eravamo all'87%, spiega Bocca, con un calo generalizzato del 15%. Ma in certi luoghi si giunge anche al 30%. Sulla impennata dei prezzi in Puglia è intervenuto durante una visita istituzionale a Fasano anche il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lolo Brigida. Dobbiamo spiegare che la qualità si paga, spiega Lolo Brigida, lo vediamo nelle produzioni enogastronomiche italiane. Dobbiamo spiegare al mondo che paghi di più un'eccellenza e la Puglia è un'eccellenza. L'ambasciata della Georgia in Italia si mobilita per il caso del neonato di Taranto. Secondo l'Agi, l'obiettivo è ora aiutare la giovane madre, una 23enne georgiana. La ragazza, lo ricordiamo dopo aver dato alla luce il piccolo, lo ha abbandonato vicino al cassonetto dei rifiuti di una via del centro. La donna attualmente è indagata per abbandono di minore e in buone condizioni generali ed è ricoverata presso l'ospedale Santissima annunziata di Taranto. Finora non ha chiesto di vedere il piccolo e ha dieci giorni per decidere se riconoscere o meno il bambino. La georgiana era da poco giunta nel capologo ionico con un compagno della stessa nazionalità che sembra risiedere nella stessa zona dove il piccolo è stato ritrovato. La scoperta del neonato è avvenuta nella mattinata di sabato 12 agosto grazie al fiuto di un cane a spasso assieme alla sua padrona. Gli agenti della squadra mobile di Taranto sono risaliti alla giovane 23enne dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area. Il piccolo Lorenzo gode di buona salute, pesa 3 kg ed è monitorato costantemente nei suoi parametri vitali. La polizia di Stato di Martina Franca ha salvato la vita ad un anziano che da diversi giorni non aveva più notizie di sé. Un amico preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con l'uomo ha chiesto aiuto al numero d'emergenza 113. Giunti sul posto gli agenti hanno cercato di entrare nell'abitazione rinvenendo l'85enne riverso per terra. I poliziotti hanno tentato di rianimarlo richiedendo nel frattempo l'intervento del 118. Gli operatori sanitari hanno trasportato l'anziano al pronto soccorso locale. I carabinieri della compagnia di Massafra hanno arrestato un 38enne di origini catanesi per rapina aggravata. Le indagini sono partite sabato pomeriggio dopo la segnalazione giunta al 112 di una rapina all'interno di un bar dello stesso comune. Secondo quanto ricostruito il rapinatore dopo aver consumato un caffè al bancone avrebbe minacciato la cassiera del locale pistola in mano per poi appropriarsi del registratore di cassa contenente circa 600 euro dileguandosi poi a bordo di un'auto. Dopo diverse ore i militari sono riusciti ad intercettare il veicolo dell'uomo quest'ultimo alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga cercando di sottrarsi al controllo. Al termine di un breve inseguimento i militari lo hanno bloccato e perquisito rinvenendo indosso al 38enne lo scontrino relativo all'acquisto di un caffè proprio nel bar in cui era stata poco prima compiuta la rapina. Il 38enne è stato arrestato. L'emergenza delle carceri al centro della denuncia del sindacato autonomo di polizia penitenziaria oltre al problema del sovraffollamento a preoccupare è la sicurezza. Da troppo tempo le carceri italiane sono sfuggite al controllo dello Stato dichiara il segretario generale del SAP donato Capece. La combinazione tra il sovraffollamento, il regime delle celle aperte e un numero troppo elevato di detenuti con malattie mentali ha creato una situazione insostenibile. Il segretario chiede che ad intervenire sia il procuratore Nicola Gratteri in qualità di nuovo capo del DAP invece dell'attuale Giovanni Russo. Gratteri ha dimostrato con la sua esperienza e competenza, aggiunge Capece, di essere la figura più adeguata ad affrontare questa situazione. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario.